Inoltre tu conosci persone, diciamo così, di larghe vedute, uomini, donne. E allora? Ecco, mi servirebbero dei filmetti, dei cortometracci. Qualcosa di piccante, capisci? Vuoi dei film pornografici? Per farne che? Rendono bene. Conosco qualcuno che li farebbe fruttare e ti pagano bene, non avrai da lagnarti, ti assicuro. E perché viene a chiedere a me quei film? E a chi mi rivolgo? Tu hai un giro appropriato? Conosci le persone adatte? E così Daniele vuole smerciare dei film pornografici. Daniele il puro, che ci parlava in punta di penna, che quasi ci metteva soggezione. Bene, bene. L'affare può anche interessarmi, se i dettagli filano e se ci sono i quattrini. Vedrai. Massimo, non ti prestare. Ci deve essere sotto una trappola. Solo, solo, sta tranquilla. E allora? Ci stiamo divertendo, no? Ecco il momento essenziale. La svolta. Lucia che comincia a schierarsi, a prendere posizione. Perché la tua proposta è ripugnante, non ne hai il diritto. Anche se Massimo è quello che è. Perfetto, Lucia. Il primo passo. Ora Massimo e Dio siamo alla pari. E vedrete il seguito. Ah, lo sapevo che il nostro incontro era destinato a meravigliosi sviluppi. Che sviluppi? Abbi pazienza. Tutto verrà da sé. Grazie.